Quello che è successo questo weekend è paradossale, sia sabato, mi dicono anche domenica mattina, sono state a rischio le gare, nel senso le società sportive hanno rischiato di non giocare le partite, ma ancora di più senza fare allarmismo, c'è il rischio che i ragazzi si fanno male, perché chiaramente su un parquet bagnato si scivola, è una cosa banalissima, ma ritengo che il problema non sia questo, tanto il palazzetto fa acqua da anni, il paese è ancora peggio, devo dire la verità, quello che mi ha impressionato è che al grido di dolore, perché appena ho saputo che eravamo in trasferta con la nostra squadra, non ero a Dischia, per caso ieri mattina mi è stato raccontato quello che è accaduto, ieri pomeriggio sono venuto a verificarlo di persona e che non è uscito niente neanche dalle cronache sportive, che le società sportive pur di giocare le partite sono state costrette a fare i salti mortali e questa tenda la cui opportunità io ritengo dubbia, perché non era forse la soluzione migliore, nel senso perché comunque se si riempie d'acqua il rischio è che cada anche la tenda piena d'acqua, io non dico che non bisognava tamponare, ma tamponando bisognava anche denunciare, dico come è possibile che le società sportive che hanno subito, perché loro sono le vittime insieme ai loro tesserati di quello che sta accadendo nel tempo e di quello che è accaduto in questo weekend, non hanno avuto una reazione e quindi istintivamente hanno riferito di quello che era accaduto. Per cui a me impressiona questo, sono sempre a farmi avanti, sono sempre i nostri ragazzi del fuoco basket a pagarne le conseguenze, perché poi scattano i dispetti, nessuno testimonia solidarietà, almeno non a me, ma i miei ragazzi sono stati costretti per anni a giocare fuori dall'isola, anche per coltivare la passione per il basket e per lo sport e mi sconcerta che quando ho avuto l'ardire per l'ennesima volta di eccepire delle criticità, sono stato attaccato da alcuni personaggi del mondo dello sport, ai quali non ho detto di non tamponare perché avevano ospiti la società di L'Acquamene e quant'altro, ho detto che tamponando bisognava dire qualcosa, questo è quello che ho eccepito, ho apprezzato come anche noi oggi siamo occupati e preoccupati, non al caso il bidone era mezzo pieno di acqua ancora oggi e è stato svuotato, effettivamente qualcuno l'avrà fatto, qualcuno avrà passato la pezza anche oggi perché loro potessero giocare, anche gli atleti di altre società. E allora tutto questo io mi chiedo perché accade e perché accade nel mio paese e perché accade nello sport. Se c'è un disagio io provo imbarazzo nei confronti dei miei ospiti che vengono accolti in una realtà dove piove, quindi chiedere scusa alle società ospiti, chiedere scusa ai propri atleti, il sindaco anche se ha sbagliato perché è distratto, perché è incapace, pretendere dal sindaco le scuse alle società sportive per quello che accade. Io mi candido al sindaco di questo paese, ma non per essere il super uomo che magari alcune cose pensa anche di poterle risolvere in tempi relativamente brevi, ma per essere la persona che quando sbaglia ha l'umiltà di chiedere scusa. Dopo che qui nessuno chiede da conto di niente, ma io voglio vivere in un'isola, in un paese, non dove dobbiamo asciugare perché ci piove dentro al palazzetto, perché non ci piove dentro, non perché dobbiamo scavare nel fango per cercare le vittime, perché il fango non faccia vittime, questo è l'isola in cui vuoi, in un paese dove ognuno di noi si prenda cura del proprio vicino, del proprio bambino, della propria struttura, del proprio tesserato. Io voglio vivere in un paese così, nella sostanza, bisognava salire sul tetto oggi, o ieri o l'altro ieri, bisognava anche rinviare la partita, se non c'erano le condizioni per giocare, ma non bisognava condividere situazioni di tampone che non garantino forse la massima sicurezza per la disputa di alcune gare. Ma mi ripeto, la cosa che mi ha allarmato in questo weekend è che mi sono state raccontate scene paradossali per favorire lo svolgimento delle gare e niente è uscito da questo palazzetto come notizia di cronaca e sembrerebbe che qualcuno abbia anche tentato di zittire qualcuno che ha dato notizie che evidenziavano alcune criticità, che grazie anche agli operatori del mondo dello sport sono state superate, quindi grazie agli operatori del mondo dello sport, grazie alle società sportive, ma all'invito di condividere non solo nel palazzetto dello sport, ma nel paese, un percorso virtuoso in cui ognuno di noi si sente libero e può essere libero di dire le cose come stanno.